Grazie, buonasera a tutti. Direi che con l'incontro di oggi si pone una pietra migliare, nel senso che l'incontro oggi pone delle questioni che sono assolutamente chiare. Vogliamo discutere di piano industriale e avranno filo da torcere, diciamolo fino in fondo, anche perché ci vogliamo confrontare su progettualità, su investimenti e sul futuro di questo comparto. E questo non è un contenzioso collettivo di serie B, non siamo la periferia dell'impero, oggi lo dimostrano l'impegno che c'è stato da parte del Ministero e da parte di tutti i governatori. Si discute del futuro non solo dei lavoratori ma di un intero comparto produttivo e vi posso garantire che da Veneto rinunciare ad Electros vuol dire rinunciare a un distretto importante che è quello del Mobile, vuol dire rinunciare a un distretto importante che è quello dell'Inox Valley. Per cui noi saremo sul pezzo a fare la nostra parte ma anche a chiedere risposte e penso che queste risposte ci siano dovute. Vogliamo anche che a livello nazionale si consideri questa avvertenza degna di questo nome, lo ha confermato il Ministro, visto e considerato che Electrolux non ha solo interessi in materia di elettrodomestici ma rappresenta anche altri interessi sul territorio nazionale e rispondono ai nomi di Ericsson, di Alfa Laval, per cui una multinazionale vera e propria che per noi vale quanto la Fiat Torino.